Ciao a tutti Colors e benvenuti nell'ultimo video del 2016 Fatemi sapere se vi piace questo nuovo nominion che ho trovato Colors Perché coloretti mi sembrava un po' una presa per i fontelli Mi avevo già chiesto sotto una piccola live fatta al volo Di farmi delle domande Diverse da quelle che avevo chiesto per l'ASK HOT Perché mi trovo in un periodo della mia vita Per cui in cui parlare di sesso mi riporta a delle cose che sto vivendo adesso E dei problemi che sto avendo adesso Quindi per il momento l'idea è stata accantonata, il video è stato cancellato Mi dispiace perché qualcuno mi ha detto non posso più farti la domanda L'avevo tenuta in cantiere per tanto Ho pazienza ragazzi Probabilmente lo rilancerò Quindi ve ne avevo chiesti di altro tipo ma nessuno me le ha fatte Voglio quindi approfittare per rilanciare l'ASK HOT Lasciatemi tante 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 domande Se non ce le faccio a rispondere in un video vuol dire che vi rispondo in due Non c'è nessun problema Però in quel caso gli ASK usciranno tipo uno dietro l'altro Usate... facciamo così Per capirci Per trovarci meglio Chi mi fa la domanda usa l'hashtag ASK COLORS Che vi metto tipo adesso Preferirei che tutti mi commentate con una domanda Una domanda qualunque Poi al massimo se ho già risposto in altri video Vi dico che... O vi dico che ho già risposto in altri video O la salto proprio Non c'è nessun problema Fatemi qualsiasi domanda Cercate di essere il più fantasiosi possibile Non vi preoccupate Lasciatemele tutte nei commenti Qui sotto Come sapete Tutti gli youtuber Dal più piccolo al più grande Stanno subendo un calo di visualizzazioni E in qualche caso anche di iscritti Io stesso ho perso qualche iscritto Solo di uno sono sicuro Che si è disiscritto di sua spontanea volontà Tutti gli altri Credo proprio che non l'abbiano fatto apposta Di conseguenza Spero per voi che abbiate guardato questo video Fino alla fine Se vi piaccio io Se vi piacciono i miei video Vi faccio l'invito di attivare la campanella Accanto al tasto iscriviti Oppure iscritto Se siete già iscritti Per non perdervi nessuno dei miei nuovi video Vi saluto Vi mando un bacione Seguitemi su tutti i miei social Li trovate nell'info box E noi ci vediamo All'anno nuovo Quindi Auguri di buon anno E che tutti i vostri desideri Si possano realizzare E auguri anche a me Per un anno migliore Perché quest'anno per me Il detto Anno bisesto Anno funesto Non è mai stato più bene di così Quindi Addio 2016 Non mi mancherai nemmeno per il cavolo E ci vediamo L'anno prossimo Ciao Ciao